Quando è stato sorpreso dai carabinieri in un bosco ha detto di essere un cercatore di funghi, ma in realtà trasportava droga, oltre un atto di hashish. È successo a Monte San Savino. I militari hanno notato un'auto parcheggiata a lungo una strada isolata. Dopo poco è spuntato fuori anche al proprietario appena uscito dal bosco. Ai carabinieri ha detto di essere alla ricerca di funghi, ma il suo atteggiamento nervoso ed irrequieto nel corso delle operazioni di identificazione ha insospettito i militari, che hanno deciso di effettuare una perquisizione sul posto sia alla persona che all'auto. Sono così saltati fuori 110 grammi di hashish nascosti nelle tasche dei pantaloni. L'uomo, residente nel comune di Monte San Savino, è stato così arrestato in flagranza di reato e la droga è stata sequestrata. Accusato di detenzione di sostanze superfacenti, è stato rimesso in libertà in attesa dell'udienza di convalida.